Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come creare da zero un NFT, ovviamente dopo la sigla. Andiamo a vedere come creare il nostro NFT sul sito e applicazione Rarible. Rarible è un sito che permette, un po' tipo eBay, con delle migliorie ovviamente, permette innanzitutto di mettere in vendita i nostri token non fungibili, permette di creare aste, ma soprattutto permette a noi utenti di creare proprio da zero un nostro NFT e di metterli in vendita su questo store. Rarible ha anche un token utility dedicato che possiamo trovare listato su CoinMarketCap. Possiamo vedere che al valore attuale della registrazione di questo video il token vale 23,90€. È un token utility che serve alla governance per quanto riguarda Rarible e serve anche come token utility per premiare gli editor, per premiare gli utenti più attivi della loro piattaforma di creazione e scambio di NFT. Attualmente in circolazione ci sono 855 mila rari e la circolazione e rifornimento totale arriverà ad un massimo di 25 milioni. Quindi comunque veramente basso come supply va da sé che se la supply di un token utility è bassa e il token effettivamente funziona e viene utilizzato ha una grande possibilità di crescita. Infatti vediamo dal grafico che ha avuto un'impennata pazzesca fino a toccare i 24€. Il token è listato e acquistabile su OneInch, Hotbit, Gate.io e Poloniex. Torniamo sul sito Rarible e cosa dobbiamo fare? Innanzitutto per cominciare bisogna andare su Create, quindi creare il nostro NFT. La prima cosa che ci viene chiesta di scegliere è se vogliamo creare un singolo NFT per l'opera che vogliamo mettere in vendita oppure creare un NFT multiple, quindi con diverse copie. Per quanto riguarda la creazione multipla, in parole povere vuol dire quante copie noi andremo a creare del prodotto che vogliamo vendere. Le copie saranno a descrizione nostra, possiamo crearne 2, 3, 10, 100, 1 milione. Dipende sempre da noi quante copie vogliamo e abbiamo intenzione di mettere su questo mercato. Ovviamente meno copie ci sono e più il prodotto è ricercato, più possiamo guadagnare e alzare il prezzo del nostro collezionabile. Andiamo a creare in questo esempio un collezionabile singolo, quindi clicchiamo su Single. E in questa schermata noi dobbiamo andare a settare i parametri per poter creare e mettere in vendita il nostro collezionabile. Allora il passaggio numero 1, andando in ordine, è inserire il file digitalizzato del collezionabile che vogliamo andare a tokenizzare con un massimo di 30 MB. Quindi vedete che possiamo inserire delle foto, degli mp3, degli mp4, quindi abbiamo già una vasta scelta di formati che possiamo tokenizzare. Noi andiamo a cliccare sulla nostra, sul nostro file che vogliamo digitalizzare. Io in questo caso ho scelto una foto di un criceto per prova e ve lo vado a caricare. Allora subito sotto abbiamo la possibilità di mettere in vendita o non mettere in vendita su Rarible il nostro oggetto. Di default viene cliccato su, viene attivato su metti in vendita, ma noi volendo possiamo disattivare con un click. E cosa otterremo? Otterremo che il nostro file, la nostra tokenizzazione, andrà sempre a buon fine, quindi il nostro oggetto verrà inserito sulla blockchain e verrà creato, verrà salvato all'interno di questa piattaforma. Gli utenti che utilizzano questa piattaforma lo potranno vedere, ma nessuno potrà farci un'offerta. Noi in questo caso vogliamo finalizzare la vendita e quindi mettiamo ok su questo tastino, su questo tasto di default. Qua sotto noi possiamo selezionare il prezzo di vendita a nostro piacimento mettendo 2 Ethereum. Nel caso di vendita dovremo sostenere una spesa del 2,5% sul prezzo di vendita, che verrà tutto fatto in automatico e riceveremo 1,95 Ethereum. Cosa importante, noi quando andiamo a inserire un NFT su questa piattaforma, riceveremo ovviamente delle offerte, perché questo sistema si basa su un sistema ad asta. Inserendo invece il prezzo, come ho messo qua, di 2 Ethereum, vuol dire che è un po' come il prezzo compra subito di eBay. Se qualc'utente è interessatissimo al nostro progetto e vuole saltare tutto il processo dell'asta, può decidere di comprare immediatamente il nostro collezionabile al costo, in questo caso di 2 Ethereum. Allora, questa opzione va inserita solamente se vogliamo premiare gli utenti che acquistano il nostro collezionabile. Magari vogliamo premiarli con un contenuto aggiuntivo. Vediamo, cliccando qua sopra, possiamo mettere un codice, un link ad un file. Quindi noi vogliamo premiare l'utente che compra il nostro collezionabile con un bonus extra. E in questo caso possiamo andare a inserire di cosa si tratta appunto questo bonus. Nel caso non vogliamo inserire nessun bonus, lasciamo off questa opzione. Una cosa molto utile di questa sezione, eventualmente, è visto che noi carichiamo un file di massimo 30 MB, quindi una qualità molto bassa, noi possiamo anche inserire qua sotto il formato reale del nostro collezionabile. Quindi il compratore comprando questo NFT poi va a ricevere l'NFT veramente con la qualità superiore, oltre che quello che va a comprare ovviamente su blockchain. Quindi avrebbe un vantaggio, una cosa in più per poter acquistare e per voler acquistare il nostro collezionabile. Allora, nella scelta della collezione, noi lasciamo come default Rarible. Perché? Perché nel tasto qua a fianco, dove possiamo creare una collezione sotto forma di token ERC721, noi appunto possiamo creare eventualmente una collezione. Supponiamo magari che siamo, non so, dei musicisti o dei fotografi, soprattutto dei fotografi, possiamo creare diversi scatti magari di una nostra vacanza e vogliamo creare una collezione dedicata a quella vacanza. Quindi noi possiamo creare una collezione su token ERC721 e andare a inserire poi questi NFT direttamente in questo album. Noi in questo caso non vogliamo creare una collezione, lasciamo di default Rarible. Qua sotto andremo a inserire il nome del nostro collezionabile, una descrizione. Le royalties sono veramente interessanti perché noi possiamo decidere se mettere ovviamente 0, quindi non ricevere alcun compenso, oppure possiamo inserire una percentuale fino al massimo del 30%. Le royalties cosa vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a vendere il nostro collezionabile, non so, al nostro amico Marco, Marco poi lo rivende a Giuseppe, Giuseppe lo rivende a Fabrizio, noi per ogni transazione del nostro collezionabile andiamo a guadagnare una royalties. Quindi andiamo ad avere una piccola rendita passiva sulla proprietà e sulla creazione del nostro collezionabile. Quindi noi andiamo a creare una foto unica oppure una canzone, un po' come i cantanti, che ricevano questi bonus, diciamo così, a vita per l'utilizzo delle loro canzoni. La stessa cosa la possiamo fare noi con le nostre foto o i nostri prodotti. Ogni volta che la nostra foto, il nostro prodotto viene utilizzato, venduto o scambiato, noi riceviamo un compenso. Ok, siamo arrivati al fine di questo processo, dobbiamo solo andare a creare il nostro oggetto. Cliccando su Crea oggetto, adesso non si vede perché io ho già collegato ovviamente il mio wallet, ma tutto questo ecosistema gira sulla blockchain di Ethereum. Quindi come vi ho fatto vedere nei tutorial per la DeFi, anche in questo caso noi dobbiamo collegare ad esempio la nostra estensione, il nostro wallet Metamask, affinché tramite Metamask noi possiamo pagare le fee e possiamo anche ricevere il compenso quando il nostro oggetto viene venduto. Una volta che abbiamo installato Metamask, vi lascerò il link in descrizione su una piccola guida relativa a questo wallet, la piattaforma si collegherà come di conseta a Metamask, basta dare l'ok e l'allacciamento alla piattaforma wallet avverrà solo una volta, dopodiché ogni volta che noi andiamo a operare su questa piattaforma Metamask verrà collegato in automatico. Una volta che Metamask verrà collegato al progetto, tutti questi step verranno approvati e noi otterremo il nostro NFT direttamente su questa piattaforma. Ovviamente ci sono delle fee da pagare che non sono così elevate, ma qualora non avessimo abbastanza fondi o non volessimo accettare queste fee che magari per noi sono un pochino alte, basta aspettare che il network si decongestioni, anche se in questo periodo come ben sapete Ethereum è abbastanza caruccia, o in alternativa possiamo accettare e pagare le fee. Per quanto riguarda le fee purtroppo sono variabili, quindi non vi riesco a dire con certezza quanto andrete a pagare. Nelle prove che avevo fatto precedentemente, le mie prove ufficiali sono andate intorno ai 10-15 dollari. Cliccando su My Hitems, i miei oggetti, noi possiamo vedere l'elenco degli oggetti che abbiamo creato, il nostro indirizzo e eventualmente andare a controllare ci sono state delle offerte. Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo brevissimo tutorial, un tutorial molto semplice e dove abbiamo visto passo passo come creare il nostro token non fungibile. Vi ringrazio per l'attenzione, vi rinvito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, ad unirvi alla nostra community di Telegram. Noi ci vediamo domani con un altro video. Grazie.